Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, 7 giorni su 7, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Nella scorsa puntata di Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio lascia un messaggio a Vittorio Feltri da parte di Tommaso Trussardi, caro Vittorio, ricevi questo messaggio da parte di un amico che ti considera molto di più, quando mi è stato chiesto di mandarti un video messaggio, ho accettato subito. Sto facendo il possibile per farlo proprio in questo momento. Tuttavia, caro direttore, se me lo permetti, non mi considero solo un amico, ma molto di più. Mi sento come un figlio putativo, anzi, come un padre putativo. Sempre, ovviamente, se tu mi concedi questo diritto. Sai, alla fine sei sempre stato presente per la mia famiglia e per me. Da quando è venuto a mancare mio padre e mio fratello, sei stato un punto fermo nella mia vita. In realtà, sei il contrario di ciò che mostri. Sei una persona di un'umanità incredibile, di una sentimentalità che forse non ha un termine preciso, ma che è straordinaria. Se oggi sono la persona che sono, lo devo in gran parte a te, alle tue presenze e alle tue assenze volute. Sei stato e sei ancora molto importante per me. Spero di vederci presto. Un bacio e ciao. Queste sono le parole di Tommaso Trussardi, che hanno davvero commosso anche Paolo Del Debbio. Il conduttore di dritto e rovescio continua poi dicendo, ti ammiro per la tua capacità di scrivere in modo così unico. Scrivere è come vivere due volte, come hai detto tu stesso. E ti dirò di più, quanto scrivi lo fai davvero vivere. E voi cosa ne pensate di Vittorio Feltri? Lasciate la vostra opinione qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore.